La Lombardia rischia di dover sospendere per un periodo le prenotazioni dei vaccini. Ad affermarlo è stato il governatore Attilio Fontana nel corso dell'Assemblea di Anci Lombardia a dare fondamento a quello che al momento è un forte timore è la ventilata riduzione delle forniture di nuove dosi dei vaccini Pfizer e Moderna nelle prossime settimane. Rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni, ha detto il presidente Fontana, perché purtroppo a luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito e ciò ci impedirà di concludere la campagna nei tempi che avevamo previsto. Anzi, ha aggiunto, rischiamo di dover sospendere per un periodo ulteriori prenotazioni perché si tratta di una riduzione consistente. Ecco perché Regione Lombardia è intenzionata a muoversi subito per far fronte all'evolversi della situazione e a farlo è stato il coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso che sta mettendo mano alle agende degli hub vaccinali proprio in queste ore. Se davvero le forniture caleranno non sarebbe infatti possibile garantire le circa 100.000 vaccinazioni al giorno che la Lombardia sta somministrando, così come i posti a circa 15.000 lombardi che si prenotano quotidianamente. Due dunque i fronti su cui si sta lavorando. Da un lato la dilatazione dei tempi per la seconda dose. Se Pfizer e Moderna hanno sinora richiesto un tempo che uscilla tra i 21 e i 35 giorni tra le due dosi, l'intenzione di Regione è quella di salire a 40 giorni di distanza tra le due somministrazioni. Il secondo fronte riguarda invece gli slot disponibili per le prenotazioni delle prime dosi. L'ordine che potrebbe partire da Palazzo Lombardia è quello di ridurli, dilatando ulteriormente le tempistiche della campagna vaccinale Lombarda. Decisioni importanti ma necessarie per scongiurare una carenza di vaccini nel caso in cui il taglio delle forniture dovesse essere più pesante del previsto, come le parole del governatore Fontana fanno presagire.